Dopo lo sfogo che ha fatto Anima su Twitter l'ultima volta riguardante appunto ancora la questione della separazione con la Sabri con dettagli che non erano mai stati rivelati prima riguardo appunto la rottura in sé la Sabri sembrerebbe aver visto tutti quanti i tweet di Anima e lo si può intuire per certo da un commento scritto in risposta a degli insulti ricevuti sotto uno dei suoi ultimi post con i gatti infatti è stata attaccata per il fatto che avrebbe detto che i suoi gatti sono inutili o meglio che secondo Anima su Twitter la Sabri dava molto più attenzione al suo cane rispetto ai suoi gatti e appunto c'è lei che si è andata a difendere andando addirittura a rigirare la cosa su Anima dicendo che è stato lui a regalare i suoi gatti e che lei li ha ancora tutti di fatto nonostante appunto Anima avesse detto che riguardavano delle norme del condominio in cui abitava ma ora voi direte ma cosa c'entrano i gatti, cosa ce ne frega dei gatti e dei cani c'è chi interessa ma comunque la cosa interessante è che appunto tutte le altre cose scritte insieme a quei tweet sono completamente state ignorate o comunque non è stata data risposta e non essendoci stata una replica dalla diretta interessata non dico che possiamo andare per assuato che quelle cose lì sono vere però se non ho avuto nulla da ridire comunque fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di tutta questa vicenda vediamo anche se Anima si esprimerà nuovamente sulla questione se finirà qui noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio